Ciao a tutti! Oggi vorrei intervistare un caro amico che si chiama Momo Saeed di Torino, compagno di università di Giorgio Chiellini, quasi dottore in economia, ed è la nostra spia a Torino. Ma non ditelo a nessuno, è quello che quando arriva un calciatore è il primo che va a Caselle ad aprire il portellone dell'aereo, insomma. Trovate il suo profilo Twitter qui, 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 esattamente qui, seguitelo su Twitter. Momo, 5 domande per te, siamo pronti? Prima domanda, cosa ne pensi della stagione appena finita della Juventus? Ciao Dan, innanzitutto voglio ringraziarti per avermi invitato nel tuo canale, che ovviamente invito tutti i nostri followers a seguirti. Beh, come dire, quest'anno mi risulta un po' difficile dare un voto alla stagione della Juventus, anche perché non è stata una stagione come le altre, quindi non riesco sinceramente a darti un voto da 1 a 10, però posso dire che secondo me comunque rimane una stagione positiva, perché nonostante tutto quello che è successo, lo scudetto comunque ce lo siamo portati a casa. vero è che potevamo fare di meglio in Champions, però come hai visto anche tu, come avranno visto tutti, non c'è la certezza nella Champions, perché è vero, il Lione, squadra che sulla carta era più debole, ha buttato fuori sia noi che il Manchester City di Guardiola. quindi non è che possiamo recriminare chissà cosa alla squadra, anche perché era un momento che non oso immaginare cosa abbiano passato i giocatori, perché dovevano anche giocare nonostante tutti i casini che sono successi, quindi per me è una stagione positiva, quello assolutamente. Si poteva fare di più, però diciamo che è meglio guardare composità per il futuro alla fine, che secondo me ci servirà qualche sorpresa. Seconda domanda, secondo te quali sono i giocatori da vendere assolutamente di questa rosa attuale? Ovviamente escludendo Chedira e Higuain, che li consideriamo già in partenza. Beh, sai che per me scegliere chi mandare via non è mai facile, perché ogni giocatore comunque mi ha regalato qualche bel ricordo, dal primo all'ultimo veramente. Però se devo farti tre nomi ti dico come primo da Glass Costa, perché purtroppo negli ultimi anni ha giocato veramente poco, nonostante le qualità in dubbio del giocatore, perché sappiamo tutti di cosa è capace da Glass Costa, però purtroppo non va bene, quindi lo vedo in uscita. Secondo nome ti direi Alexandro, perché negli ultimi due anni ha avuto un crollo nelle prestazioni abbastanza evidente, è anche vero che non ha avuto il centrocampo che aveva prima, perché prima parteggiava con Pogba, che aveva un tasso di qualità un po' alto, quindi si trova un po' più a suo agio, e adesso anche con la Riodi Ronaldo è un po' limitato offensivamente. Però comunque questo non giustifica le prestazioni di quest'anno, faccio per esempio anche il Milan, dove è entrato e non ha fatto molto bene. Ultimo nome ti direi Ramsey, perché so che il giocatore preferisce tornare d'Inghilterra, perché non sia molto ambientato, nonostante non sembri, visto giustamente non conviene mai avere un giocatore che non è invogliato e tutto quello anche lui a livello di condizioni fisiche non eccelle, quindi come terzo nome ti faccio lui. Veniamo a una domanda di attualità. Domanda numero 3. Secondo te, e da quello che pensi, e da quello che sai, chi sarà il numero 9 della Juve? Beh, secondo me la parola chiave per il prossimo 9 della Juve sarà esperienza, perché ci serve un giocatore di esperienza lì davanti, quest'anno ci è mancato tantissimo una figura di riferimento là davanti. Purtroppo Gonzalo è un attimino anche in fase calante della sua carriera, quindi non si può più fare affidamento, nonostante io li voglia un sacco bene, anzi, quest'anno ci ha fatto godere e non poco. Ti direi, i nomi secondo me, è uscito anche negli ultimi giorni su Arez, che come sappiamo è stato offerto dal suo agente, perché è in uscita al Barcellona. Purtroppo sappiamo che il giocatore ha dei problemi molto gravi al ginocchio, quindi sinceramente non saprei cosa farne, però Suarez è Suarez, in condizione secondo me dopo Lewandowski rimane comunque la punta più forte del mondo. Quindi il primo nome secondo me è Suarez. Il secondo ti direi Karim Benzema, perché per motivi anche di intesa con Ronaldo, sappiamo benissimo che i due si intendono una meraviglia, anche se qui è un pochettino complicato il discorso, perché secondo me Zidane non se ne voleva privare e comunque avrebbe anche delle richieste economiche non indifferenti, perché Florentino non te la regala mica. Terzo nome, vabbè, c'è ovviamente Edinceco, che è in uscita dalla Roma e che è un usato garantito, diciamo. Però sai, la carta d'identità purtroppo non mente mai, quindi sinceramente preferisco gli altri due, anche se Zecco comunque rimane uno dei top attaccanti in Italia e anche in Europa. Quindi per dirti di... se dovessi fare una scaletta di preferenze ti direi Benzema, poi Suarez e poi ovviamente Zecco. Però ovviamente direi anche che c'è anche un quarto nome, che secondo me può essere una bella sorpresa, però dipende... questo quarto nome dipende da un sacco di fattori, quindi adesso meglio non dirlo. Quindi mi tengo questi tre. Domanda numero quattro, forse la più controversa. Cosa ne pensi della situazione di Messi? Secondo te? Lascia? Rimane al Barcellona? Dove va? Juve? City? Inter? Allo Spezia? Dove va secondo te? Beh, questa è una domanda da un milione di dollari, quindi non è facile rispondere. Però allora ti dico la mia. Le possibilità per me si sono tre. La prima è di rimanere a Barcellona. Quindi dopo tutto sto casino che ha combinato, che è successo negli ultimi giorni, rimanere a Barcellona. Io ti dico che cito poche chance alla sua permanenza a Barça. La seconda è il Paris. Perché comunque loro hanno dei giocatori che potrebbero essere scambiati. Non dico un bapè, ma Neymar. Noi sappiamo che Neymar tornerebbe molto volentieri a Barcellona. Terza opzione. Io ti dico la Juventus. Non ti dico il City, perché il City, come si vede anche da, non so se sia vero o meno il Fax, o comunque nel caso lui volesse attivare la clausola, escluderebbe il City alla fine. Perché se tu attivi la clausola, che noi sappiamo che non è valida né per l'Inghilterra né per la Spagna, lui ha in mente sicuramente una squadra che non è in questi due club. Cioè comunque non è in questi due campionati. Quindi per questo che secondo me, se deve andare all'estero, quindi fuori dalla Spagna, e non può andare in Inghilterra, le scelte sono due. O Juve o Paris. La Juve secondo me ci proverà. Perché comunque molti parlano della fattività economica, ma io non credo che siano così stupidi da farla senza averci lavorato dietro. anche perché l'immagine di avere entrambi i giocatori più forti del mondo attuali, ed è anche negli ultimi anni, ma di sempre, è un'immagine abbastanza cattivante, diciamo. Quindi per me le possibilità sono sempre queste tre. Quindi o al Barça, o al Paris, o alla Juventus. Ultima domanda, numero 5. Qual è il tuo sogno proibito per quanto riguarda il calcio mercato? Chi prenderesti tu? Beh, il mio sogno proibito per la Juventus? Vabbè, io sono egiziano, quindi ti direi Momo Salah. Ma parte il fatto dell'affetto personale che ho per il giocatore, è un top player. Per me tra i primi 10 in assoluto. Io mi spingerei anche tra i primi 5. Ti direi Momo Salah per, non solo anche per motivi appunto di affetto, come ti dicevo, ma comunque anche per motivi tecnici. Perché il giocatore è indubbiamente uno dei più forti. Quindi sul campo ci vorrebbe fare un ulteriore salto di qualità, sicuramente. Ma anche per il livello di brand, perché Salah ti è portata dalla tua, tutto il mondo arabo. Che comunque non è poco. Ti può portare anche sponsor importanti. Quindi è una scelta che avrebbe molti, molti pro, sicuramente. Quindi sì, ti direi come non mi è proibito, ci avrei sicuramente Momo Salah tra i primi. Poi ce ne sono altri. Per esempio, a me piace un sacco Henry Kane, quindi ti direi anche lui. Poi, vabbè, gli altri li sappiamo già, i Kevin De Bruyne, i Pogba, ma però io ti metto sempre in pole il mio pupillo Monsalah. Bene, grazie Momo, sei stato gentilissimo. Io volevo ricordare a tutti voi che se volete far parte dei miei video e volete ricevere cinque delle mie domande, potete scrivermelo nei commenti. Prendiamo contatti privatamente. Mi interessa sapere la vostra opinione. Mi interessa creare anche questo spazio un po' più simpatico all'interno del mio canale dove faccio queste interviste, ma a tifosi normali, a tifosi come me. Insomma, gente normale e a cui voglio chiedere delle cose. E mi piace, mi piace dare questo spazio anche a voi che mi seguite. Quindi se vi interessa partecipare, collaborare con me, questo canale è nato anche per quello. Quindi prendiamo contatti, scrivetemelo nei commenti e sempre Forza Juve!